Nell'ambito dei servizi pianificati dalla rete di cooperazione tra le polizie stradali europee è stata eseguita una vasta operazione finalizzata al controllo del trasporto su strada di merci e passeggeri chiamata Track & Bus. Nel corso dello svolgimento dell'operazione condotta agli agenti della sezione polizia stradale di Palermo sono stati controllati sulle maggiori arterie della provincia 71 mezzi pesanti e 20 autobus a cui sono stati contestati rispettivamente 79 e 11 verbali per violazione varia al codice della strada. Sono stati anche sanzionati due autisti di mezzi pesanti trovati alla guida in giornate in cui vi era per questi veicoli apposito divieto di circolazione. Per gli stessi è stata adottata la misura della sospensione della patente e della carta di circolazione del veicolo. Particolare attenzione è stata posta agli operatori della polizia stradale a rispetto dei tempi di guida e di riposo nonché sull'efficienza del veicolo e sullo stato di alterazione psicofisica dei conducenti. A questo proposito si evidenzia che una pattuglia della sottosezione di Bonfornello durante il servizio di pattuglia dell'A19 avendo avuto notizia dalla centrale operativa compartimentale che un auto articolato procedeva a Zizagando dopo averlo intercettato lo ha indirizzato verso l'area di servizi Caracoli Nord e dopo gli specifici accertamenti attraverso l'utilizzo dell'etilometro in dotazione ha deferito all'autorità giudiziaria il conducente per il reato di guida e stato di ebbrezza. L'autista infatti guidava con un tasso alcolemico elevato. Per i conducenti professionali, autisti di mezzi pesanti, tassisti, conducenti di autobus eccetera la norma non provvede ad alcuna soglia di tolleranza tant'è che il tasso alcolemico per tali categorie deve essere pari a zero.